In attesa che la società SACAL torni in mano pubblica per lo scalo di Crotone, si sta lavorando alla costituzione di una nuova compagnia aerea, la Ionica Airways, a coordinare il progetto, e Salvatore Veltri, che in questi giorni sta monitorando il territorio al fine di ampliare i quadri societari, progetto ambitioso che punta al rilancio dello scalo di Sant'Anna, da sempre tenuto ai margini. E sarà proprio l'aeroporto crotonese ad ospitare l'hub operativo della nuova società che dovrebbe vedere la luce entro e non oltre il 2022. Traffico passeggeri, ma anche commerciale, con particolare riferimento al mondo dell'agricoltura ed ortofrutticolo. Il coordinatore Veltri ha inviato una nota ai sindaci dell'area magno-greca, della Sibaritide e del crotonese, e per questa idea progettuale intendiamo cogliere l'attuale condizione di difficoltà sommata alla precarietà infrastrutturale, che l'intera fascia ionica vive ormai da troppo tempo per rilanciare un basilare concetto di cittadinanza attiva. E intendiamo farlo nella consapevolezza che noi per primi, come calabresi, dobbiamo affermare la Calabria che l'Italia non si aspetta. Per mutuare un felice slogan elettorale che, a prescindere dalle appartenenze, dovrà accompagnarci nei prossimi anni. Si sta lavorando per la costituzione di una COP PRL come viatico per una public company che possa poi tradursi in società per azioni. Ci proviamo, continua Veltri nella nota, per non coltivare di sentimenti o rivalse, ma molto semplicemente per essere protagonisti del nostro futuro, intraprendendo e mettendoci in gioco come civiltà civile in uno, alla comunità politica e alle istituzioni regionali, provinciali e comunali.